E' morto 95 anni per cause naturali il produttore Alberto Grimaldi, diversi progetti a cui ha preso parte nella sua lunga carriera lavorando gli spaghetti western di Sergio Leone, ad Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci e a Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini fra i tanti. E' stato il figlio Maurizio Grimaldi ad annunciarne la morte sul sito Variety. Napoletano, nato nel 1995 Alberto Grimaldi era laureato in giurisprudenza quando nel 1962 ha fondato la società di produzione PEA, Produzioni Europee Associati, grazie alla quale ha prodotto l'western spagnolo L'ombra di Zorro. Nella carriera di Grimaldi ci sono oltre 80 film tra i quali quasi tutte le opere cinematografiche di Pasolini, Ginger e Fred di Fellini e gli spaghetti western di Sergio Leone a partire dai due violenti. Ha collaborato con il regista alla coproduzione internazionale di Per Qualche Dollaro in Più di Clint Eastwood e l'anno dopo hanno lavorato insieme a Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo.